Carissimi amici di Santina, a tutti voi un saluto cordiale qui dalla Basilica della Madonna di Guadalupe. Alla mia sinistra sta il santuario che ospita la firma, l'effigie miracolosa della Madonna e a destra l'antica basilica. Anche qui in Messico abbiamo aperto un'opera di solidarietà. In una regione che è percorsa dai carteghi della droga che si chiama Guerrero, nella colonia di La Laja, abbiamo iniziato un lavoro che è di ristrutturazione di un edificio che ospiterà i poveri, i malati e gli anziani. E in più abbiamo raccolto sette storie di dolore per adozioni all'istanza. Chiedo a tutti voi la preghiera per questa nostra nuova attività e sono contento e lieto di dirvi che oggi presiederò la messa a mezzogiorno nella Basilica, nella quale offrirò la messa per la nostra associazione, per la nostra fondazione, per ciascuno di voi e per tutte le nostre opere di solidarietà. Da Città del Messico, il 14 di novembre, mi saluto tutti con affetto, ricordando anche i poveri morti che mi hanno detto essere stati oggetto di un recente attentato a Parigi. A tutti da Città del Messico, dalla Vierge Morenita, un saluto cordiale, vostro Don Gigi.